Partenza rilento dei saldi invernali, complice il maltempo, ma anche il fatto che molti trevigiani si trovano ancora in vacanza nel primo giorno di promozioni poche le persone in giro per la città e dentro ai negozi. I commercianti stimano un aumento degli acquisti tra il 7 e il 10% rispetto agli sconti 2023. Secondo le previsioni nella marca si spenderanno circa 400 euro a testa tra abbigliamento e calzature, il 69% si rivolgerà ai negozi fisici e il 59% punterà sulla qualità. Come accade ormai da qualche anno in questo periodo ci si interroga sull'opportunità di posticipare gli sconti anche alla luce dei cambiamenti climatici. Troppo presto questi saldi secondo lei? Sono sempre troppo presto, la stagione è partita molto tardi, è partita a fine novembre con il Black Friday perché il tempo è stato sempre molto tiepido e quindi la merce invernale è partita molto molto tardi. Si dovrebbe fare in maniera graduale e riportarli nella stagione giusta. L'inverno è iniziato da un mese, cioè se lei pensa a novembre è stato freddo ed era autunno, neanche inverno. Un inverno che tarda ad arrivare e che ha condizionato gli acquisti nei mesi scorsi. Abbiamo avuto due mesi, io lo dico disastrosi, ottobre e novembre, dissuasivi appunto per il caldo all'acquisto del capo invernale. Credo che in questo ci sia, diciamo da parte nostra, l'intenzione appunto di portare all'attenzione del legislatore. Posticipare i saldi, ma anche rivedere le tante promozioni che durante l'anno si susseguono, soprattutto nella grande distribuzione e online. Se ci fosse uniformità delle promozioni, parlo più delle grosse catene e dei siti online. I negozianti classici purtroppo devono sottostare a certe regole. Sottostare vuol dire anche perdere. A tal proposito Federmoda Treviso ha in agenda di stilare una mappatura dei comportamenti di chi propone queste promozioni. Di capire quali sono le promozionali vere e proprie, giuste, quali no, quali messaggi che non sono chiari per il consumatore. Dalla loro i consumatori si dividono tra chi aspetta con impazienza i saldi per avere il capo tanto desiderato e chi invece per i suoi acquisti sceglie altre strade. Avete aspettato questa giornata? Sì, sì. Molto, perché potevo pagarlo il doppio sul sito, quindi ho risparmiato. I saldi hanno ancora senso secondo voi? Sì, per risparmiare sì ha senso, piuttosto che magari prendere una cosa a prezzo totale e magari riesci a trovarla a metà prezzo e conviene. Io non compro tanto nei negozi, quindi in realtà non faccio caso. Quindi insomma sono una cosa un po' sorpassata. Secondo me sì, cioè veramente noi siamo persone più da mercatini dell'usato piuttosto che da negozi. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì.